Ciao a tutti ragazzi, sono AlexC90, benvenuti in questo mio prossimo video, siamo qui, Harry Potter, Hogwarts, Misteri, dopo tante missioni, oggi andremo ad affrontare il prefetto, con un allenamento ma allo stesso tempo è anche una specie di vera sfida, quindi questa video ora ti tratterò prova di forza numero 2, perché c'è già la prova di forza numero 1 dove ci stiamo esercitando con Rowan a studiare i libri per allenarci appunto per affrontare questa prova ragazzi, quindi, adesso dobbiamo andare a campo di allenamento, giardini del castello e provare a battere il prefetto, tra 3, 2, 1, andiamo ragazzi, pronti? campo di allenamento, affronta Angelica a duello eccoci qui, siamo pronti alla gara, alla gara modolla vai sei pronto per il nostro duello Alex? sono pronto, probabilmente no sei pronto per affrontarmi? sono pronto ho letto tutti i libri di duelli che ho trovato, non sarò mai più pronto di così ben fatto, senza preparazione non c'è successo senza sfidare noi stessi e affrontare qualcuno più forte non possiamo migliorare e diventare duellanti più capaci ti consiglio di dare il massimo, al contrario di quello che hai fatto in colpetto di duello con Ben Cooper dovresti fare lo stesso, io punto a vincere bene, cominciamo ragazzi, ci siamo pronti a combattere? basta un click e ce li troveremo all'interno del combattimento andiamo iniziamo siamo pronti allora, io per prima cosa direi di stare sulla... no, di attacco aggressivo siamo pari quindi iniziamo di Subdolo siamo pari Subdolo Subdolo e vinciamo noi allora, basta di attenzione della resistenza Flipendo un super attacco alla Flipendo Boom gli abbiamo parato via già un quarto di vita adesso, attacco aggressivo Boom e vinciamo di nuovo Expelliamo io c'è meno di senza versare la presenza di più restordimento Expelliamos ok, io ottengo un grosso bonus adesso stiamo sulla difensiva sì, vittoria anche stavolta getta la fiala cura alta nel tempo media riduzione della resistenza beccati questa Boom ragazzi ce l'abbiamo fatta a fronte prefetto abbiamo vinto raccoglini incredibile sei davvero forte come dicono forse dovresti essere tu insegnanami a duellare sei non sarei mai arrivato fin qui senza la tua guida vuol dire che a tutti i studenti di Gripondoro che sconfitto il tuo prefetto vuol dire a tutti ah, i studenti di Gripondoro che sconfitto il tuo prefetto non dillo a nessuno dillo a tutti sì, mi vanto lo dico a tutti lo sto dicendo a tutti in tutte le case nessuno credeva che potessi batterti ma ho dimostrato a tutti che avevano torto il tuo talento come mago è ammirevole ma non posso dire lo stesso del tuo carattere eh, lo so non me ne frega un cavolo ti insegna tutto quello che sapete sui duelli dovrai cercare a un insegnante più forte a Howard bene ragazzi come ha detto la voce abbiamo completato la missione di prova di forza parte 2 per questo video è tutto se il video vi è piaciuto cliccate un like registratevi al canale e per questo video è tutto ragazzi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao